Da domani sarà possibile il cambio di residenza online. I primi comuni italiani individuati di intesa con ANCI, una trentina, attiveranno il servizio per il cambio di residenza o dimora dal portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR. In Toscana sono quattro i comuni, Firenze, Livorno, Prato e Rosignano, Marittimo. In un comunicato congiunto il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministero dell'Interno e Sogei, Partner Tecnologico dell'Amministrazione Economico-Finanziaria, spiegano che si tratta di una prima fase di applicazione che durerà circa due mesi, al termine della quale il servizio verrà gradualmente esteso a tutti i comuni italiani. Dal 18 gennaio scorso tutti i comuni sono dentro l'anagrafe nazionale. È possibile accedere al portale dell'anagrafe con la propria identità digitale, SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell'area riservata dei servizi al cittadino. La piattaforma dell'anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche all'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it